Musica La conferenza stampa di stamattina sta a significare che con gli amici, i rappresentanti, gli altri enti che partecipano a questo tavolo istituzionale, ha verificato anche il momento particolare, critico, che viviamo non solo in Italia, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra provincia, la provincia di Salerno, che è una delle province più grandi a livello nazionale, composta da circa 158 comuni, e caratterizzata sicuramente da parte delle bellezze archeologiche, bellezze faunistiche, patrimonio del ministro del 55% del suo territorio, costituita soprattutto dalla costiera mafitana e dalla costiera cilentana, ma anche da tutte le aree interne.